Credo che tutto quello che si poteva dire su Hillary Clinton è stato detto e giustifica pienamente il suo fallimento. Sulla questione di Jill Stein, Jill Stein ha portato via molti voti a Hillary Clinton, infatti molta gente che non poteva votare per Bernie Sanders votava per lei ed è stato anche un esodo di voti abbastanza importante. Per quello che riguarda Bernie Sanders, vedremo il futuro se lui riesce ad attestarsi. Certo era molto amato dall'università, dagli studenti, però c'è anche da dire che non poteva funzionare con l'establishment. Adesso bisogna vedere se l'establishment continua ad essere così solito o ci saranno qualche variazione. A mio parere rimarrà tutto uguale, però si creeranno delle sovrastrutture che facciano pensare che tutto è cambiato, in realtà non è cambiato niente, secondo me. Bene, adesso passiamo alla presentazione.